ciao allora benvenuti nel video delle scoperte del mese partiamo con una scoperta che ho finito e questa qua ve la consiglio si tratta delle maschere per il viso della sephora questa ad esempio questa è blu che i maschi quindi all'argilla azzurra è una maschera che dice di essere un signor ed è purificante detossinante e cosa importante dice di essere per 4 utilizzi ma vi assicuro davvero che ne dura davvero di più ma anche 8 o 10 facendo tutto il viso è anche uno strato bello generoso quindi ottima se poi invece lo fate solamente nella zona t ad esempio vi dura anche di più allora prezzo 35 ml viene 5,90 euro solitamente il marchio della sephora collection è un marchio che non è scontabile tranne anche con i saldi o con altre promozioni ma 5,90 euro e abbiamo detto che dura davvero tanto allora cosa dire intanto che ve la faccio vedere questa qui è pratica perché è piccolina ecco quindi anche comoda da portare in giro ha il suo beccuccio con le vite quindi non si spreca il prodotto e non fuoriesce altra cosa molto valida si applica sul viso si lascia in posa dice 10 minuti ma io faccio anche tranquillamente 15 la ragilla azzurra perché dice blu ma è azzurra è quella più ossigenante e detossinante e ha una leggera azione purificante quindi non è proprio quella strong ma comunque sia è valida quindi ottima anche per chi ha la pelle sensibile comunque i pori dopo applicazione sono meno visibili e tende a riequilibrarmi la pelle se ad esempio ed sono pre o post periodo davvero fa il suo lavoro e oltretutto volevo dire una cosa che non mi ricordo ha dentro una mosca mi sto perdendo oggi perfetto ed ha con una leggera azione scrabbante perché all'interno dei microgranuli ma sono delicatissimi quindi davvero si sentono solo durante l'applicazione e durante la rimozione la rimozione è facile una volta asciugata con una spugnetta umida oppure con l'acqua tiepida si rimuove facilmente non irrita la pelle e non la rossa quindi io questo sicuramente ve la consiglio c'è una gamma davvero molto vasta di maschere ed è idratanti, nutrienti, purificanti quindi vi consiglio di darvi un'occhiata perché davvero sono pratiche e poi hanno poca plastica ed è una cosa che mi piace veniamo ora ad un altro prodotto che si ma allora intanto è il gel doccia concentrato di Veroche quindi quello con concentrato, meno plastica, ottimo per l'ambiente quello che ho io è alle fiori di tiaree e yang ling lang 100 ml sono per 40 docce perché? perché ha questo tappo a valvola ok? che rilascia la giusta quantità di prodotto ed è concentrato e ne basta pochissimo quindi sicuramente è un prodotto che è piccolino quindi è comodo da portare in viaggio da portare nella borsa della palestra o da portare in giro oppure semplicemente da usare varie profumazioni però nel mobiletto non avete tante confezioni grosse ne avete delle piccoline ed è valido su questo punto di vista allora i prezzi perché sono vari dunque c'è questo che è da 100 ml che equivarrebbe a quello da 400 100 ml viene 3,95 euro 200 ml 2,70 euro e 400 ml che è quello grande classico 3,95 euro sono tutti punti verdi quindi è difficile che siano scontabili però comunque sia con le promozioni periodiche ci sono anche delle buone offerte veniamo ora al prodotto e è questo che ho io che comunque è questo qui questo che avevo io ha un profumo fresco, fiorito ricordavo bene secondo me è perfetto per le docce quotidiane, frequenti o comunque sia in estate fa una bella schiuma, si deterge bene la pelle non la irrita e non dico si rimuove facilmente perché? allora è un buon prodotto sì però questo flacone che basta solo ed è concentrato per una doccia non è pensato per tutti ad esempio attenzione perché io ho dove posso dire c'è il cane che abbaglia il mio cane dei vicini ho l'acqua dolce in casa e per di più ho l'addolcitore quindi davvero molto dolce un'applicazione indicata da loro è troppa quindi dopo farete davvero fatica a rimuoverla quindi anche in base al piacca della vostra acqua ma lo sapete sicuramente qual è il piacca dell'acqua e normalmente comunque in Italia l'acqua è dura non è come la mia tranne che sulle montagne quindi comunque sia per la maggior parte di voi un'applicazione una dose è perfetta ma comunque sia se avete un addolcitore apposito per l'acqua attenzione perché dovete fare un pochino meno della dose consigliata se no davvero rimuoverlo farete super fatica ma detto questo meno plastica meno ingombro l'idea è buona e quindi solo con questo piccolo accorgimento è un valido prodotto veniamo ora alla super scoperta perché? perché siamo tra donne sì e devo dirvelo comunque sì anche per i maschietti perché no? cercavo una crema post depilazione ebbene sì ed io normalmente uso delle creme cerco post depilazione da avere delle creme con un buon inci perché la pelle è arrossata quindi vorrei metterci qualcosa di non profumato o comunque sia che me la va a irritare ancora di più quindi c'è un prodotto abbastanza buono e che assorba velocemente perché poi vorrei anche rivestirmi ho voluto provare questa questa è la crema corpo ecobiologica della Omia con l'aloe vera dice di avere 0% di parabeni o di minerali peg silicone coloranti sintetici allora è vero ah scusate la formula leggera è vero sull'inci perché è completamente verde quindi questo sicuramente il prezzo per 200 ml di prodotto l'avevo segnato 5,40 euro da tigotà quindi per un prodotto che non è testato sugli animali ok è completamente biologico ha la certificazione ecobiocosmetics secondo me 5,40 euro è un ottimo prezzo questa è la crema poi tutti sappiamo le proprietà dell'aloe e oltretutto davvero non solamente post depilazione ma anche un arrossamento oppure una scottatura solare questa è una crema molto molto valida allora il profumo come ricordavo è delicato quindi altra ottima cosa ha una formula leggera fluida poco prodotto si stende bene non lascia scia bianca un leggero massaggio ed è assorbita quindi davvero l'applicate il tempo di chiuderla pulirvi le mani e potete vestirvi ma ha un potere idratante davvero alto sia il potere idratante sia comunque l'azione di lenire la pelle l'azione lenitiva ecco le parole oggi ciao comunque sia valida molto valida credo che io a questo punto mi fermerò su questa perché normalmente cerco sempre di provare nuovi prodotti in questo caso credo che ricompro lei perché mi sono trovata talmente bene che è una crema da avere in casa per tutti gli usi non solamente post depilazione femminile ma comunque sia per un arrossamento ed è ad esempio una struttura solare un arrossamento o qualunque cosa va bene la pelle dell'uomo quando si irrita con il rasoio magari che non vogliono che va appiccicose sulla pelle ecco questa è perfetta quindi ve la consiglio e queste così perché se no compare erano tutte le scoperte del mese fatemi sapere se avete provato qualcuno di questi prodotti e come vi siete trovati come sempre vi ricordo anche di seguirmi su Instagram perché li pubblico le feste impression quindi le recensioni quelle veloci quelle dei prodotti che provo una o due volte se non avete Instagram non c'è problema basta seguirmi su Facebook o sul mio blog perché comunque le pubblico sempre anche lì tutti i link in descrizione e mi raccomando se ti è piaciuto il video toto tutto in compagnia se ti è fatto scoprire qualche prodotto nuovo ricordati di mettermi un like e di cliccare anche sulla campanella così verrai visato ogni volta a carico un nuovo video e alla prossima ciao 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 Grazie per la visione!